Quanto durerà la pace tra il leader della Lega e il premier Mario Draghi? C'è chi scommette su 10 mesi. Parola di bookmakers. Quanto tempo ci vorrà perché la Lega si metta contro il governo Draghi? I bookmakers calcolano le quote sui 10 mesi. Al massimo un anno. Al momento tutto procede in pieno accordo. Una sorta di idillio con il nuovo premier. Dovuto anche al fatto che Matteo Salvini deve ancora capire bene che cosa sta facendo Mario Draghi. Il capo della Lega sembra un razzo appena lanciato verso la missione. Tutti increduli e in religioso silenzio lo guardano con il naso all'insù. Ogni cosa andrà alla perfezione fino a quando salterà fuori un barcone dalla Libia o un ponte sullo stretto di Messina e milioni di pezzi andranno in frantumi nell'etere davanti agli sguardi perplessi degli astanti. Si chiama coazione a ripetere. Esattamente come il modello Conte 1. Matteo Salvini al governo proprio non ce la fa. Si sta sforzando. Bisogna ammetterlo. Anche perché Giancarlo Giorgetti, ministro dello sviluppo economico, al governo ci vuole stare e come. Il destino però sembra segnato. Il suo segretario non potrà resistere a lungo. È fatto così. Non può mettersi a lavorare perché non è capace. E così a guardare gli altri alla fine ci si annoia e si comincia a inzigare. Comunque. Come ha scritto Michele Serra. Sarà un esperimento a suo modo appassionante vedere come reagirà o non reagirà Mario Draghi. Scomodando il, quello, di Corrado Guzzanti. Forse più, la seconda che hai detto. Matteo Salvini per un po' parlerà poco. Giusto qualche butad come pizza serale per tutti. Ma quando si accorgerà che nessuno in realtà lo sta ascoltando. Ahinoi ricomincerà a inondare le televisioni. D'altronde le sue idee politiche si possono riassumere con il ritorno alla lira. L'uscita dall'Europa e il suo amore per Putin. Fulgido esempio di democrazia. Oltre a indossare braccialetti. Felpe della polizia e mascherine pro-Trump. Dietro all'uomo non c'è una visione dell'Italia. È tutta una messa in scena. Adesso che non è più pericoloso. È anche divertente. La vera ispirazione del suo pensiero è Filippo Tommaso Marinetti con il Manifesto del Futurismo. Un ritorno ai primi del Novecento alla Zang Tamb Tamb. Buoi buffali pungoli carri plaf plaf impennarsi di cavalli flic flac zing zing. Shaak. Et vive la France Marine Le Pen. Un ritorno ai primi del Novecento all'uomo non c'è una visione dell'Italia. Un ritorno ai primi del Novecento all'uomo non c'è una visione dell'Italia. Un ritorno ai primi del Novecento alla